Due biglietti a zona Parco delle Grohane. Armato? No, non sono armato. Una battuta, ma solo fino a un certo punto, perché dal 1 agosto tre stazioni della linea ferroviaria Saregno-Saronno in Lombardia chiuderanno per droga ogni giorno, dalle 10 alle 17. Le fermate soppresse sono Ceriano-Solaro, Ceriano-Grohane e Cesano-Grohane e hanno una cosa in comune. Attraversano il Parco delle Grohane, 3.000 ettari di prati e boschi colonizzati in alcuni punti da tossicodipendenti e spacciatori. Perché venite qua, costa meno? Prendi il treno. Grazie mille. È comodo il treno. Parliamo con un tossicodipendente fermato durante un'operazione della Polizia Municipale sulla banchina del treno. Con lui ci sono altre due persone con precedenti per spaccio e rapina. Ti faccio il foglio di via qua. Va bene, va bene. Fai quello che vuoi. Ma quello che devo. Qui vengono smerciate l'eroina che è tornata in maniera pesante, sintetiche, cocaina, fumo, eccetera, eccetera. Uno scende dal treno, si addentra nel bosco, compra e consuma e poi si rimette sul treno. Abbiamo poi uno spaccio di tipo diverso dove chi arriva lo fa in macchina o lo fa in moto. Il sindaco ci ha prestato una bicicletta e ci ha portato al Parco delle Grohane. Le stradine sterrate che lo circondano erano deserte, ma appena ci siamo addentrati a piedi abbiamo trovato una piazza di spaccio a 50 metri dai binari. E questo è il loro bivaccamento. La decisione di saltare le tre fermate per buona parte della giornata è stata presa di comune accordo da Prefettura, Regione Lombardia, Polizia Ferroviaria e Trenord, l'azienda che gestisce il servizio. L'ordine pubblico non è più garantito e io per questo anche ho chiesto l'intervento già da tempo dell'esercito. Ora io chiedo allo Stato di dimostrare che esiste. Nel frattempo però qualcuno dovrà arrangiarsi. Il lavoro da quelle parti viene penalizzato perché ci sono gli spacciatori, però il paradosso è invece andargli ad arrestare che stanno quest'anno là, chiudono le fermate. Credo che possa portare dei benefici proprio perché negli orari di chiusura erano gli orari dalle 10 alle 17, cioè non dei pendolari, quando la gente non prende il treno per andare a lavorare. Erano effettivamente gli orari in cui lo spaccio avveniva di più. Quindi è una soluzione. È una resa. È una soluzione, non è una resa.